Musica Weeey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuter e ragazzi buon Natale, oggi è il 25 dicembre quindi tanti auguri di buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie, ma non per questo ragazzi non possiamo parlare di leaks e che leaks che arrivano proprio oggi, ragazzi vedremo un sacco di cose interessanti in questo video parleremo di alcuni strani oggetti che sono stati scoperti in giro per la mappa, vi farò vedere delle fotografie non mancheranno, non mancheranno, ma è come Kids Perli oggi, non mancheranno neanche una nuova, delle nuove skin dei nuovi oggetti per delle nuove skin che vi farò vedere e ovviamente ragazzi si parla e si comincia a vociferare seriamente del ritorno dei vecchi magazzini, quelli che gli OG players si ricordano quindi nella season 1, nella season 2. Ragazzi, prima però vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, soprattutto dai e iscrivetevi al canale raga, cresciamo insieme con questa famiglia e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento e nessuno dei miei video. Ma prima ragazzi, la domanda, la domanda che mi interessa che mi rispondiate qua sotto nei commenti non dimenticatevi di farlo ragazzi, secondo voi a che cacchio servono le uova che hanno scoperto qualche giorno fa e che vi avevo già fatto vedere anche nei video? Sono di drago, sono di dinosauro, sono di struzzo gigante, raga, tutto quello che vi sembra scrivetemelo qua sotto nei commenti, mi raccomando. Ma quindi, ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito a parlare del primo argomento, un tweet ufficiale che viene pubblicato da Fortnite dove ci ricordano che il team di sviluppo di Epic Games al momento non c'è, sono tutti in vacanza li ha mandati, li ha sbrindellati come cani sciolti al vento ragazzi, quindi tutti gli update, tre saranno gli update in realtà ancora due perché abbiamo già visto quello che è arrivato ieri con l'introduzione dei regali e se ci pensate bene non abbiamo dovuto fare nessun aggiornamento e nessun refresh questo vuol dire ragazzi che la patch 7.1 del peso di un giga e qualcosa comprendeva anche i tre update che verranno rilasciati in questi periodi festivi si chiameranno 7.12 e 7.13 in modo che non ci sia nessun problema e non necessiteranno di nessun aggiornamento di Fortnite quindi ragazzi andiamo avanti e parliamo invece ovviamente del pack che è uscito ieri lo abbiamo visto tutti nel nostro negozio ragazzi il Frozen Legend, non mi fermerò troppo a rompervi le balle su questo pack voglio solo darvi la mia opinione ragazzi allora, sono belle eh, perché sono belle? ma mi sembrano una cacata nel senso ma dai han colorato di blu le skin raga si chiede un 25 euro per colorare di blu le skin io non glieli do io non glieli do io non so se voi abbiate shoppato il pack nel senso però se foste intenzionati a shopparlo vi ricordo ragazzi di dare un'occhiata al primo link qua in basso quello di Instant Gaming sapete che ci sono un botto di bundle di Fortnite a prezzi super scontati il mio link personale potrebbero inserire anche il Frozen Legend magari piuttosto che 25 euro magari lo pagate 19 non lo so ragazzi pensateci bene pensateci bene ma andiamo avanti cominciamo a parlare della roba veramente seria ragazzi i magazzini si parlava appunto del ritorno dei vecchi magazzini una delle location più interessanti e più stimate da parte dei giocatori di Fortnite me compreso avevano un fascino quei tre magazzini che ci mancano a me mancano allora ragazzi dovete sapere ragazzi che intanto l'immagine che state vedendo è quella del livello 97 del pass battaglia quindi ragazzi già lì c'è una campanella di allarme che potrebbe dirci stanno tornando i magazzini ma se andiamo a vedere queste immagini ragazzi che è relativa ad una nuova modalità a tempo limitato che verrà proposta tra pochissimo nelle sfide nelle modalità dei 14 giorni di Fortnite quelle che arrivano praticamente nuove ogni giorno se guardiamo bene questa immagine ragazzi stanno combattendo palesemente in un magazzino questo è un magazzino che noi su Fortnite non abbiamo attualmente nel senso i due magazzini che sono rimasti in piedi sono distrutti praticamente metà e metà e comunque non hanno assolutamente la dimensione di questa immagine tra l'altro è molto somigliante anche l'interno ai vecchi magazzini per chi se li ricorda sono leggermente diverse però le chest quella che vedete qua qua si vede una luce dovrebbe essere un chest e ce n'è un'altra là in fondo come vedete sopra uno dei container non sappiamo ragazzi tra l'altro se guardate bene nella parte più esterna c'è anche un ragno gigante sopra il muro non sappiamo ragazzi assolutamente quale sia questa modalità ma anche le skin mi fanno un po' pensare ragazzi che c'è uno zombie e una delle skin incattive il ringhio se non sbaglio che combattono contro il dottore qua della peste quella che è nascosta praticamente è la skin quella tutta strana così insomma ragazzi i magazzini potrebbero tornare prestissimo e non vediamo l'ora che sia così ma andiamo avanti ragazzi e voglio farvi vedere una roba incredibile prot guardate qua ragazzi non è un'immagine non è un'immagine ragazzi è stato trovato nei file di gioco questo strano piccone che porca suina non me lo fa vedere in movimento perché non me lo fa vedere in movimento vigliaca 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 me lo faccia vedere in movimento non si sta muovendo datemi un secondo che ve lo faccio vedere io in una maniera molto più spiccia spiccia ragazzi è una figata incredibile fa niente se non ci sono io ragazzi guardate un po' guardate un po' che roba questo ragazzi è un piccone appena scoperto e porco Giuda riparte ancora con la concezione del mare c'è un polpo che abbraccia proprio letteralmente l'ascia del piccone cioè intanto mi metto che così rivedete la mia brutta faccia ragazzi eccomi qua sono bruttissimo salve e come si dice un altro elemento insieme a questo deltaplano ragazzi un deltaplano a forma di gamberone gigante di rame guardate un po' però è palesemente un super gambero ragazzi un deltaplano a parer mio veramente fighissimo belli colori bella l'idea e bello lo stile con un'elica davanti e ragazzi qua si va di nuovo a parlare del mare sento avevo chiamato avevo chiamato il video gamberi come si dice molto molto figo ragazzi perché abbiamo già visto anche alcuni elementi del pass battaglia che vanno a richiamare il mare potrebbe affermarsi la teoria di una completa neve che va a riempire tutta la mappa che ghiaccia e che poi allo scioglimento renderà molto più alto il livello dell'acqua non sappiamo nulla ragazzi ma ci tenevo a farvelo vedere andiamo avanti parlando anche della nuova location sapete che oramai dove c'è il The Block il quartiere se non ricordo male il nome in italiano continuano a mettere le creazioni fatte proprio da voi le migliori creazioni che ritengono essere degne di inserimento nella modalità battle royale ed è veramente molto bella anche quella che vediamo nello sfondo ragazzi un sacco di cesto un sacco di materiali ci sono tanti veicoli anche aeroplani quad insomma ragazzi fateci un salto se ancora non lo avete vista perché merita davvero tantissimo e proseguiamo ragazzi parlando un attimo delle sfide natalizie è stato trovato data poi che è uno dei data minor molto molto influenti nella scena mondiale anche il la ricompensa esatta sembrerebbe dal giorno 7 al giorno 14 delle sfide come vedete il cookie back bling quindi il deltaplano del biscottone al giorno numero 7 il take the christmas che saprebbe il take the elf quindi un balletto al giorno 8 il pickaxe quindi sembrerebbe due picconi il frozen no scusatemi un piccone il frozen red knight pickaxe e il il cavaliere in poche parole al giorno 13 la camo per le armi quindi una nuova skin per le armi e per i veicoli e al giorno 14 un nuovo deltaplano il disco glider ragazzi deltaplano ovviamente inerente alle festività di capodanno beh ragazzi direi che ho un sacco di leaks ve li ho detti anche oggi e spero che vi siano piaciuti mi raccomando sempre di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi tantissimi al canale e noi ci vediamo in live tanti auguri ancora ciao non parte non parte ciao 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 Grazie a tutti.